Massimo Massetti, assessore allo sport del comune di Città di Castello. Lo facciamo lo stato dell'arte, ora che i campionati sono quasi tutti terminati, ma l'attività sportiva nel comune Tifernate va avanti per tutta l'estate? Ma senza dubbio, l'attività sportiva non si ferma mai, perché finisce la stagione agonistica, già si programma la stagione agonistica successiva, dall'utilizzo degli impianti, dalla programmazione, dallo spostamento dei giocatori, dallo spostamento delle varie discipline da una localizzazione a un'altra, i dirigenti addirittura, c'è il mercato anche sui dirigenti qualche volta, quindi è bello, è anche dinamico, è anche piacevole qualche volta scoprire che ci sono dei passaggi da una società a un'altra di dirigenti, di figure tecniche, di figure che comunque portano il loro contributo di volontariato, vorrei ricordare sempre questo, è sempre propositivo, diciamo. Noi come amministrazione stiamo raccogliendo i dati dei campioni, diciamo, della nostra città, degli atleti della nostra città che hanno conseguito titoli, per poi a settembre, prima di ripartire con la stagione nuova, organizzare di nuovo sull'aula del Consiglio Comunale la seconda edizione della premiazione di tutti quegli atleti che si sono messi in evidenza e contestualmente occorre fare anche un richiamo alle società sportive che va e ha ridosso l'applicazione dell'uso del defibrillatore sugli impianti sportivi, quindi in quella sede faremo anche questo. Dicevamo dell'eccellenza del territorio Tifernate per quanto riguarda lo sport, tanti impianti, tante strutture, lei lo ha ricordato, riusciamo a farlo perché c'è tanto volontariato e allora questo è un momento opportuno anche per ringraziarli ma soprattutto per cercare di fare un appello perché di volontariato ne serve sempre di più assessore. Ma senza dubbio i primi volontari sono i genitori che comunque seguono qualsiasi disciplina essa sia, seguono i propri ragazzi anche sacrificando qualche volta la vita familiare perché spesso e volentieri sono i weekend che coinvolgono le discipline sportive e lo fanno sicuramente con piacere. È un sistema educativo, è un sistema gioioso per vivere assieme alle proprie famiglie anche una giornata attraverso lo sport. I dirigenti sportivi gli va fatto un grosso applauso in quanto si adoperano con risorse proprie e comunque si adoperano nel mettere a disposizione quello che possono fare operativamente anche ed economicamente. Gli sponsor che sono pur in difficoltà economiche, le difficoltà economiche che attraversano il nostro paese, quindi non solo la crisi mondiale direi io, anche a Città di Castello ovviamente si risente di questa difficoltà economica, di questo momento, comunque gli sponsor con i propri contributi riescono a dare sempre risposte anche almeno dello sport. Quindi un ringraziamento va fatto anche a loro.